Stiamo comunicando soltanto sport, la normalità dello sport, è tutto tremendamente normale. Lo sport è passione, è sacrificio, è emozione e non ci sono differenze fra come lo vive un atleta apparentemente non disabile e un atleta paralimpico. È tutto tremendamente uguale. Noi vorremmo che si trasferisse questa normalità perché un paese cresce quando cresce il PIL ma anche quando cresce la cultura del paese. In questo io credo che lo sport paralimpico sia garantendo una silenziosa rivoluzione culturale. Dopodiché naturalmente c'è la narrazione delle storie umane che ci sono dietro questi straordinari atleti. Ma quella è la seconda parte del racconto, non deve essere la prima. La seconda parte del racconto che aiuta ad entrare di più nelle difficoltà che vivono gli atleti paralimpici per affermarsi e magari possano aiutare a mantenere i riflettori accesi anche quando inevitabilmente si spengeranno calata l'emozione. Oggi è una giornata importantissima per lo sport italiano e non solo. Qui ci si racconteranno storie, retroscena, aneddoti di vita di sport che noi abbiamo visto sempre in tv ma raccontate dai protagonisti rendono più l'idea e fanno capire esattamente cos'è lo sport. Questa giornata, queste giornate sono veramente importanti e soprattutto per far capire la valenza dello sport. Per tutti, piccoli, giovani e meno giovani, perché lo sport è l'essenza della vita. Allora, l'esperienza che mi porto a casa di queste paralimpiadi è il riamarico principalmente di tutto di non poter aver fatto proprio come avrei voluto e la seconda è che è una festa bellissima e meravigliosa e sono cose che bisogna viverla per poter raccontare.